Rilevante scoperta archeologica nelle hack di mare antistanti il lungomare Cristoforo Colombo a Marina di Caronia. Gli uomini della Guardia Costiera di Messina, terzo nucleo operatori subacquei ed una pattuglia dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Aga da Meritello hanno recuperato sui fondali importanti reperti tra cui spicca un'anfora di epoca romana in buono stato di conservazione. L'anfora si trovava a poca distanza dalla costa ed era stata notata nei giorni scorsi da alcuni appassionati di pesca subacquea che hanno segnalato il rinvenimento alla Guardia Costiera. Secondo gli esperti si tratta di un'anfora in terracotta utilizzata per la conservazione del trasporto del vino databile tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Molto probabilmente i reperti facevano parte di un carico di un'imbarcazione dell'epoca adibita al trasporto di merci ed affondata in quel tratto di mare. Tutti i reperti verranno presi in consegna dalla Sovrintendenza del Mare presso l'Assessorato regionale ai beni culturali per gli approfondimenti scientifici. Ovviamente i reperti sono collegabili alla storia di Calacte, città fondata da Giusezio, re dei Siculi, nel 447 avanti Cristo. Il rinvenimento puramente fortuito risale al 1992 quando durante i lavori di sbancamento per tracciare una strada e località telegrafo sono venuti alla luce i resti della città. Oltre alle mura sono stati ritrovati cocci di ceramica, monete di bronzo, un conio, una lucerna, un tronco di colonna marmoria di 60 cm. Che Calacte fosse storicamente ed economicamente importante lo dimostra il fatto che la cittadina, nell'epoca romana, fu sede di zecca e quindi batteva moneta propria.